Presidente, la sua idea sul Green Pass? Siamo a pochi giorni ormai. Io sono stra d'accordo con il Green Pass, anche perché la Regione Campania il Green Pass lo ha già fatto quattro mesi fa, anche se a Roma non se ne sono accorti. E se avessero semplicemente utilizzato il lavoro della Campania e il metodo della Campania, avremmo fatto prima e creato meno confusione. Mi pare del tutto ragionevole affermare il principio che chi frequenta luoghi pubblici deve essere vaccinato. Punto. Che c'è da discutere?